Con il successo della campionessa degli Stati Uniti, Megan Garnier, si è conclusa la 27esma edizione del Giro d'Italia femminile, dominato dal team olandese Bols Dolman. Per quanto riguarda le squadre della nostra zona, il bilancio è tutto sommato positivo, considerato le forze in campo e le disponibilità economiche delle società toscane. Da applausi la prova dell'impa bianchi Giusfredi di Massa e Cozzile, che ha concluso il duro impegno con tutte e sei le atlete. In particolare è da sottolineare la dodicesima posizione finale dell'Ucraina, Tetiana Ryabchenko, brava a piazzarsi fra le prime in tutte le frazioni di montagna. Bene anche due giovani promesse del team diretto da Giuseppe Lanzoni, la campionessa rumena su strada e a cronometro Anna Maria Kovrig, classe 94, ventunesima nella classifica finale, e la velocista Vicentina Michela Pavin, 22 anni fra pochi giorni. Per lei tre piazzamenti nelle prime dieci nelle frazioni dedicate alle ruote veloci. Più che positiva la partecipazione della Pro Cycling Team Conceria Zabri di Manuel Fanini, che ha proposto una campionessa ucraina, Eugenia Visoska, in grande spolvero. L'atleta dell'Est ha infatti terminato la fatica in tredicesima posizione, con all'attivo uno straordinario ottavo posto, conquistato nel tappone del Mortirolo, la mitica salita affrontata per la prima volta anche dalle donne. Peccato per la piccola crisi del giorno dopo che le è probabilmente costata l'ingresso nella top ten. Bene anche la campionessa di Giappone Eri Yonamine, venticinquesima nella generale e molto attiva in tutte le tappe. In evidenza la giovanissima Carmela Cipriani, classe 96, al suo primo anno da elite e alla prima esperienza in un grande giro, portato a termine brillantemente. Spedizione sfortunata invece per la Michela Fanini di Patron Brunello, decimata dagli infortuni. Il primo, alla vigilia della Corsa Rosa, ha tolto di gara la campionessa di Francia Edwicz Pitel, punta di diamante della squadra lucchese. Il secondo, arrivato per una rovinosa caduta nella seconda frazione, è costato il ritiro per la scalatrice colombiana Laura Lozzano. Nonostante tutto però a tenere alto il nome della squadra, allenata da Pietro Cesari, ci ha pensato la campionessa di Ungheria Monica Chirali, alla fine trentottesima, che soprattutto nella prima parte del giro e specialmente in salita si è più volte messa in evidenza. Buono anche il comportamento delle giovani Michela Balducci e Federica Nicolai, entrambi i ventunenni, che sebbene terminate nelle retrovie hanno trovato la forza di finire la corsa. Le due possono ancora crescere. Infine da segnalare il ventesimo posto finale della lituana Rasa Leileivite, portacolori della Vaiano Fondriest di Prato. Grazie a tutti.